Buongiorno a tutti. A dimora di piante e alberi ripristino alla massima efficacia dell'impianto di irrigazione. Sono questi gli interventi che verranno effettuati a Piazza del Popolo, come deciso dal sindaco Giovanni Di Giorgi. Con 23 mila euro la principale piazza della città, che i cittadini lamentano sia lasciata nel degrado più assoluto, risorgerà. La manutenzione è affidata alla ditta Vivai Di Onigi, questo spiega il sindaco, anche in vista dei cambiamenti radicali che verranno effettuati entro la fine dell'anno. Il centro storico sarà infatti chiuso al traffico e ci sarà anche un anello ciclabile. E parliamo proprio della zona dei pub. Arriva la beffa, tra due settimane tornerà la ZTL ma senza le telecamere. Nel mese di novembre il Comune aveva eliminato la ZTL nella zona pub, assicurando che entro la primavera sarebbe stata reinstallata in una maniera più utile a tutti. Quindi occorreva solamente decidere tra Varco con telecamera che controlla le targhe o Varco a scomparsa con colonnine che si alzano e abbassano. Ma ecco la beffa. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro in Commissione Commercio per annunciare le misure che verranno prese per tutelare residenti, commercianti e fruitori della zona, mossi da diversi interessi che hanno un punto in comune, la sicurezza. L'assessore al commercio, Angelo Tripodi, alla presenza del rappresentante del comitato residenti, ha spiegato che verrà modificato il senso unico in via Neghelli, intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale e dentro due settimane verrà ripristinata la vecchia ZTL, ai cui Varchi sarà previsto il monitoraggio della protezione civile. Dopo sette mesi di attesa dunque viene comunicato che la zona traffico limitato verrà ripristinata nelle stesse modalità di prima, con l'unica differenza del diverso senso di marcia. Nessuna telecamera che avrebbe potuto incastrare gli artefici dei numerosi atti vandalici che si susseguono senza sosta, nessun pass per permettere ai residenti di entrare anche coi varchi chiusi, si spera almeno che i controlli saranno realmente intensificati come annunciato dall'assessore Tripodi e non come le volte scorse. Quello che lamentano tutti infatti è che in seguito ad un grave episodio criminale compaiano le pattuglie delle forze dell'ordine e poi nei giorni successivi non ve ne è più traccia. Quindi questo di fatto il punto della situazione. Intanto per quanto riguarda la vicenda dei lavoratori dell'Avio Interiors sono stati promessi interventi, un periodo nero per l'occupazione pontina e non solo alla crisi della Sapa di Fossa Nova, prevista la chiusura con il licenziamento di 140 operai, si è aggiunta anche quella dell'Avio Interiors di Latina Scalo, fiore all'occhiello dell'industria dell'aeronautica italiana. Annunciati 150 licenziamenti. I 400 lavoratori dell'Avio di Latina hanno immediatamente proclamato lo stato di agitazione in solidarietà con i 150 colleghi, un fulmine a ciel sereno per l'azienda che produce interni per aerei con committenti da ogni parte del mondo e che ancora oggi avrebbe preziose commesse da portare a termine con l'allestimento di ben 38 aerei. Il responsabile dell'azienda, Alberto Venerusso, nonostante l'incontro con una rappresentanza della Maestranze, ha confermato l'intento di licenziare una scelta incomprensibile, fanno invece sapere all'unisono i sindacati. Nei giorni scorsi è stata bloccata l'Appia, e l'argomento è stato oggetto di un consiglio provinciale straordinario. Tutte le forze politiche hanno promesso un intervento e vedremo se questo intervento di fatto ci sarà. E andiamo di nuovo sul litorale per una notizia che avevamo visto anche sulla prima pagina di Ostia Litorale, appunto l'inserto del messaggero e che viene riportata anche nel quotidiano di Latina. Tante le polemiche che sono state sollevate riguardo al beach party Circo Nero sono gli ambientalisti contro questo tipo di evento. Pomezia arriva dura anche la nota dell'associazione che ha come fine la protezione dell'habitat di Torbaianica. Il Circo Nero in spiaggia con le critiche di fare verde si rischia di danneggiare le dune, questo è il punto. Abbiamo letto anche prima quali siano le diverse opinioni da parte delle associazioni ambientaliste ma anche dell'Asso Balneari che non è concorde con questo tipo di iniziativa. E c'è ovviamente anche la replica da parte dell'amministrazione, un evento nazionale, qui due pentastellati, vale a dire Elisabetta Serra e il sindaco Fabio Fucci, la scelta della location è ancora in discussione quindi ancora nulla di definitivo, un evento di risonanza nazionale come il Circo Nero può a nostro avviso essere una possibilità in più seppur non l'unica per rivitalizzare il nostro litorale così come da più parti cittadini e commercianti ci richiedono. È questa una delle considerazioni che il vice sindaco della città Elisabetta Serra ha voluto sottolineare a difesa della scelta dell'amministrazione in merito alla volontà di ospitare sul territorio una sessione del famoso Beach Party. L'atto deliberato in giunta esprime la volontà della nostra amministrazione di collaborare con la società organizzatrice dell'evento per inserire il Circo Nero nelle manifestazioni dell'estate pometina come specificato in delibera il luogo e gli impegni di spesa verranno definiti successivamente dopo un apposito atto dopo che gli uffici tecnici avranno valutato la fattibilità dell'evento. Ci troviamo attualmente nella fase di valutazione della proposta che ci è pervenuta a cui seguirà la definizione della location e delle modalità. La spiaggia di Campo Ascolano inizialmente indicata dall'ente organizzatore è stata già esclusa dopo un primo sopralluogo. Voglio rassicurare quanti in questi giorni hanno mostrato timori per la sicurezza e la tutela dell'ambiente il riferimento all'evento ha concluso. I nostri uffici sono al lavoro proprio per valutare nel dettaglio se come una manifestazione così importante possa realizzarsi senza mettere a rischio il territorio. Anche il sindaco della città Fabio Fucci ha voluto dire la sua in merito alla scelta dei grillini il nostro impegno nella tutela della vegetazione dunale non è in discussione. Il luogo e la fattibilità dell'evento sono ancora oggi oggetto di valutazione siamo interessati ad ospitare nella nostra città eventi che possano contribuire a promuovere il nostro litorale intrattenere i nostri concittadini anche più giovani rilanciare l'economia cittadina sempre nel pieno rispetto per la sicurezza e la tutela sia dei cittadini che del nostro territorio. Quindi questa è la replica del sindaco Fucci e dell'amministrazione in particolare la replica firma della vice sindaco Elisabetta Serra ancora tutto da valutare e l'impegno rimane nel difendere la vegetazione dunale ma anche la sicurezza dei cittadini questa detta dell'amministrazione pometina. Ci spostiamo di nuovo sul web per altro tipo di notizia Alessandro. Sì, parliamo di cronaca un incidente purtroppo grave questa mattina nella zona 5 Archi tra il comune di Aprile e quello di Nettuno una Seat Marbella è una lancialibra per cause ancora da accertare sono entrate in collisione tra loro coinvolti due uomini di 35 e 37 anni che sono finiti dentro una cunetta ad un 85enne in gravi condizioni l'uomo è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno dove è stato ricoverato in prognosi riservata per gli altri due trasportati presso l'ospedale del litorale romano soltanto lievi ferite sul posto la polizia che ha effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro da Ardia invece arrivano altre notizie la prima è soltanto una comunicazione poiché domenica 22 giugno è in programma una corsa ciclistica possibili difficoltà di circolazione proprio durante questo passaggio la partenza è alle ore 9 presso il bivio di Caronti in via Pontina Vecchia il percorso si snoderà attraverso questo bivio in via Laurentina successivamente in via Vallecaia via Pescarella via Pontina Vecchia un percorso da ripetersi per sette volte con l'arrivo a Bivio Caronti quindi da dove si parte poi di fatto si arriva vedremo se ci saranno problemi per la circolazione stradale intanto un'altra novità sempre dal comune di Ardia per mezzo di un comunicato stampa diffuso dal primo cittadino Luca Di Fiori definire la questione dei 706 ettari del demanio dello Stato del Salsare questa è la richiesta che è partita dal sindaco al presidente del Consiglio Matteo Renzi nell'ambito del provvedimento Sblocca Italia si tratta di un pacchetto di misure promosse dal governo per concludere alcune vicende bloccate da lungaggini burocratiche pareri o di Nieglie che ha visto Renzi nei giorni scorsi scrivere una lettera proprio ai sindaci italiani quella delle Salsare spiega Di Fiori in una lettera si trascina dal 51 e ha visto realizzare abusivamente un abitato con migliaia di residenti e attività commerciali ciò a causa di una questione burocratica e legale che si è intrecciata tra enti diversi l'amministrazione comunale di Ardea ha continuato Di Fiori ha attivato un ufficio speciale che ha richiesto all'Agenzia del Demagno la cessione dei 706 ettari ai sensi dell'articolo 56 bis del DL 69 2013 per poi procedere all'alienazione degli stessi terreni ai possessori siamo in attesa del decreto di trasferimento da parte dell'Agenzia del Demagno per avviare l'iter e fare in modo di riportare legalità in un territorio che la aspetta da tempo basterebbe solo questo atto già c'è un'intesa tra Comune Agenzia del Demagno e Avvocatura dello Stato per risolvere un problema che più volte è stato oggetto anche di interrogazioni parlamentari spero che il Presidente del Consiglio possa accettare questa richiesta del Comune di Ardea ha concluso il Sindaco un'accelerazione dell'iter potrebbe consentire un nuovo passaggio storico per l'intera città e quindi questa Giulia l'ultima notizia che arriva direttamente dal Comune Rutulo Sì rimanendo sempre nel Comune Rutulo spostandoci però verso Torsa Lorenzo una notizia di cronaca che riguarda un giovane 26 anni individuato dalle forze dell'ordine in possesso appunto di sostanza stupefacente 4 gli involucri di cellofan sotto vuoto per un peso complessivo di 400 grammi di marijuana oltre a un bilancino di precisione materiale vario da utilizzare per il confezionamento delle dosi addirittura l'attrezzatura classica che si utilizza per mettere sotto vuoto gli alimenti in questo caso ovviamente impiegata con altre finalità erano in possesso di un giovane 26enne residente appunto nella zona di Torsa Lorenzo ad Ardea che li custodiva in casa all'interno di uno zainetto sempre una notizia di Cronaca che però arriva questa volta dalla comune Anziate nelle scorse ore il personale della polizia locale ha sequestrato un congegno utile alla clonazione dei bancomatti installato in un ufficio postale a Lavineo in particolare stando a quanto trapelato nella giornata di ieri sembrerebbe che il macchinario ritrovato fosse alquanto ingegnoso oltre alla parte applicata nella fessura di inserimento delle carte dove viviera il meccanismo che clonava la banda magnetica ai relativi dati era stata applicata anche una mini telecamera all'altezza di un'altra fessura quella per la fuoriuscita delle banconote tale oggetto elettronico quindi registrava la digitazione dei codici segreti archiviando su una scheda SD il firmato che poi sarebbe stato estrapolato per l'utilizzo dei dati e il prelievo da parte di chi aveva installato il congegno un'ultima notizia sempre a Dancia è stata interdetta l'area del Molo con un'ordinanza del sindaco Bruschini che sarà valida fino alla ripresa dei lavori niente bagni e navigazione nei pressi del porto neroniano questa la decisione presa nei giorni scorsi da parte appunto del sindaco Bruschini che ha emesso questa ordinanza per poter interdire l'accesso e il transito nelle aree e nello specchio acqueo in cui si trova il Molo di nuova costruzione a difesa del porto neroniano l'atto si è reso necessario al fine di salvaguardare la pubblica incolumità di navigatori e bagnanti visto che si tratta di una zona ancora sottoposta a cantiere seppure non vi sia al momento la presenza di qualsivoglia ditta in quanto la regione Lazio è provveduta alla revoca dell'appalto alla HMSRL di Minturno società che stava realizzando l'opera nonostante fosse destinata scusate destinataria di un'interdittiva antimafia emessa dalla profettura di Latino ovviamente l'atto sarà valido fino a quando la regione Lazio non disporrà la ripresa dei lavori quindi niente bagno né navigazione né i presti del porto neroniano ad Anzio questo quanto stabilito dall'ordinanza emessa dal sindaco di Anzio Luciano Bruschini con questa notizia noi chiudiamo l'edizione pomeridiana della nostra rassegna stampo ovviamente un ringraziamento Alessandro per tutti gli aggiornamenti dal web grazie a te Giulia e noi come di consueto torneremo domani alla solita ora con la nostra informazione grazie per la cortese attenzione e arrivederci arrivederci grazie a tutti